Svelato il programma dell'edizione 2019 di Eroico Rosso, di scena nei palazzi storici di Tirano dal 13 al 15 settembre. Un inno all'eccellenza dei vini, lo sforzato, 26 le cantine presenti all'evento promosso dal comune della città dell'Adda. Numerose le novità che caratterizzeranno la cremeseno gastronomica volano per un viaggio alla scoperta del territorio. Le novità innanzitutto sono sul tema del vino, quindi chi conosce già Eroico Rosso noterà che i wine lab, cioè i momenti di degustazione guidata, sono tutti anticipati al venerdì. In particolare un laboratorio che abbiamo così assolutamente nuovo è il salotto con il produttore, quindi nelle sale di Palazzo Merizzi i produttori, un produttore in ogni sala racconterà proprio il proprio vino, la modalità di produzione, le sue caratteristiche e novità poi sono anche diciamo un po' la parte artistica, con un'installazione luminosa il sabato ispirata al logo di Eroico Rosso. Quest'anno partecipano i ristoranti del centro storico e in particolare diciamo si è un po' ampliato il percorso del festival, includendo anche Piazza Paravicine. Protagoniste nei palazzi ben 26 cantine. Sì, ecco questo è un segno anche dal nostro punto di vista che l'eccellenza che vogliamo proporre viene riconosciuta in primis anche dalle cantine, che ovviamente ricordiamoci sono il perno fondamentale di questo festival, così come anche i palazzi storici. Di scena mostre, spettacoli, in un percorso di luce, esposizioni, visite guidate, laboratori per i più piccoli e ancora tanta musica, ma anche itinerari suggestivi lunghi terrazzamenti a piedi e in bicicletta. Un evento all'insegno della qualità e del bere bene. Eroico Rosso sempre di più si conferma un evento importante non solo per il territorio ma per tutta la Valtellina. Negli anni si è consolidato, gente da fuori e non solo dalle mitrofabrianze, dai paesi vicini, ma sempre di più viene conosciuto e quindi viene gente sul nostro territorio e questo fa bene al turismo. Fa bene al turismo perché scoprono un territorio magnifico, scoprono i nostri paesaggi che sempre di più nel mondo sono riconosciuti. Informazioni e iscrizioni per esso l'info point di Tirano in piazza della stazione su infochiocciolaeroicorosso.it